radio ok in collaborazione con magilla spettacoli presenta dimmi la tua interviste con i personaggi e gli artisti del momento ogni martedì giovedì e sabato alle 19 e 30 in diretta live sulla pagina facebook radio ok conduce daddy dj odierno quello del giovedì siamo in diretta sulla pagina facebook radio ok con dimmi la tua il programma ideato e condotto dalla dj modestamente ma abbiamo un abbiamo intervistato o l'onore di intervistare un ospite che diciamo è conosciuto ma nello stesso tempo si fa sì come dire non si non si vuole farlo non si vuole far conoscere parlo proprio di una eccellenza della musica diciamo popolare e sappiamo tutti che ci sono no i grandi della musica popolare ma abbiamo anche questa persona questo grande ospite che ha debuttato anche la notte della data perché quando si parla di musica popolare si si associa subito la taranta alla musica popolare quindi la notte della taranta adesso parliamo proprio abbiamo con noi l'ospite che io presento subito a voi che è proprio lui riccardo dei giorgi lui è in macchina e si è apposta si è appostato proprio per riposare perché vi torna da una vi torna da un viaggio che è stata lavorato buonasera riccardo e benvenuto a radio ok nel programma dimmi la tua ciao riccardo ciao davide ciao a tutti i teleascoltatori video ascoltatori come si dice insomma ecco ciao a tutti riccardo riccardo diciamo riccardo dei giorgi oggi nasce proprio dal col suo lp no il primo lp mal di luna prodotto da alberto costantino stato finalista proprio in questo momento ecco perché io volevo fortemente riccardo e volevo fortemente riccardo perché lui è stato finalista in un sanremo rock quindi sì 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 questa settimana della kermess perché scusatemi la parola ma in questa settimana è solamente questa settimana che si chiama kermess perché poi comunque viene chiamato sanremo quindi quando c'è eh questa settimana si usa sempre spesso anche nel nel dialogare anche radiofonicamente anche la parola kermess soprattutto kermess festival queste sono le parole che nella settimana del festival di sanremo eh corrono di più no esattamente ha pubblicato tanti tanti brani citarli io ho scaricato un pochettino la sua musica e e tanto ha scritto brani come canto antico acqua della fontana e soprattutto è stato anche acqua della fontana non l'ho scritta della tradizione popolare però hai detto bene l'ha riarrangiata l'ha riarrangiata riarrangiata e anche musicalmente ci ho cambiato delle parti quindi in parte hai detto bene l'ho scritta eh sì perché quando si scrive una canzone non si scrive solamente con il testo ma si scrive anche con la singola nota e quindi ogni singolo arrangiamento viene come dire un attimino caratterizzato no? ehm ma è stato a Berne è stato ad Amsterdam è stato a Montreux ma poi ha fatto anche è stato anche insieme alla compilation di Religned Music e io c'ho il gatto che mi vede passare quindi c'è il gatto che quando c'è Davide qui nello suo studio spoggia davanti a questa parte poi ti giro la foto e ti faccio vedere come sta è una prima donna è una prima donna è anche lui vuole fare la kermess perché quando si sta qui si fa il kermess è una cosa bella poi è stato scritto anche è stato insieme alla compilation l'acqua della fontana quindi con quel discorso sì ma è stato scritto nella compilation pizzica la taranta di tv e sorrisi e canzoni sì sì ma poi anche nel cd della Feltrinelli con la notte della notte della taranta e via discorrendo sì poi chiaramente è prossimo un altro album che poi lo ci dice dai tu parliamo proprio del primo disco Riccardo De Giorgio arriva dopo gli anni spesi a elargire talento e soledà a un ampio a un ampio ventaglio ventaglio scusatemi di progetti musicali un lavoro che si compone dal singolo cioè dall'album delle ep di nove tra di sei tracce scusatemi sì una prima curiosità nasce proprio dal titolo mal di luna perché mal di luna mal di luna ti dico la verità il senso mal di luna nasce per una questione dimetrica sai quando scrivi una canzone almeno io utilizzo fare così inizio a suonarla e ci strimpello sopra un inglese maccheronico alla mia delle parole senza senso per cui nel ritornello ci andava perfettamente mal di luna no e quindi là da lì poi è nato tutto il testo di mal di luna ed è rimasto così e anche il tour si chiamò allora mi ricordo mal di luna tour e dovrei avere mi piacerebbe ritrovare anche del manifesto di quel tour lì che è stato uno dei primi che abbiamo fatto naturalmente era era un tour locale nel senso che andavamo siamo arrivati al massimo a suonare in basilicata rispetto alle cose successive che avevo che abbiamo fatto poi no che ho fatto successivamente insomma però calcola che mal di luna è uscito che io avevo 18 anni per cui ero all'inizio all'inizio discografici ma non all'inizio dei live perché quello che mi ha caratterizzato sempre sono stati i live io ho fatto sempre tantissimi live durante l'arco dell'anno e adesso non ti nascondo davide che mi sta mancando tantissimo quell'aspetto al di là del discorso economico perché noi artisti guadagniamo di quella roba lì insomma ma da un punto di vista proprio psicologico e manca manca quella dimensione manca un sacco manca un sacco erano sicuramente riccardo torneremo sicuramente a fare perché purtroppo deve andare tutto quanto nel verso giusto si sta si parla di nuova diversa ondata però questo lo affrontiamo alla fine del discorso e quindi era scelto proprio così questo questo è nato per caso è nato per caso sei un polistrumentista la tua voce si innesca in un universo musicale molto sfaccettato perché io ho sentito e avuto modo di sentire due canzoni l'ultimo che secondo me è bella oltre vabbè quella io l'ho sentita però mi piace molto molto tamburiedo perché si innesca tutto un tratto un ritmo che non è quel rock e quel rock proprio rock rock è un rock diciamo che tende ad avere gli accordi da rock ma sostanzialmente è un rock dolce sì quindi diciamo che pure tra l'altro ti pure prende la musica sì sì quindi portare una musica rock diventa difficile però è la tua specie in questa in questo in questa in questo stile no questo stile rock c'è gli accordi di un rock e taro è è bella cioè rende 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 bella la musica e popolare quindi raccontaci un pochettino perché c'è hai scelto proprio questi accordi dolci queste situazioni che sono belle perché comunque viene mettere prende anche la 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 il ritmo ti viene da sé ti dico che intanto sono uno a cui piace sperimentare sono uno a cui piace contaminare mischiare per cui mentre eravamo in sala prove per preparare lo spettacolo che poi avremmo portato in estate in giro ti parlo di sette otto anni fa abbiamo provavamo delle canzoni del disco che avevo fatto precedentemente e ho detto perché non proviamo a inserire delle canzoni della musica popolare come l'acqua della fontana appunto tamburiedu no abbiamo provato a mescolare queste i componenti gli strumenti caratteristici che sono il tamburello anche il violino con le chitarre con le chitarre rock e ne è venuta una cosa veramente che mi piaceva sai quella roba che te la senti poi se devi sentire l'energia io sentivo che c'era energia in quelle in quella roba che stavamo facendo per cui abbiamo registrato subito l'acqua della fontana e e c'è stato poi l'elio di aprire della soul gem records che me la me la mi ha chiesto di metterla in compilation poi mi ha chiesto detto fanno un'altra perché ha funzionato benissimo ha venduto un sacco ha venduto non solo in italia ha venduto in svizzera e molto nel nord europa credo che loro poi hanno degli agganci non so come fanno insomma non ne capisco niente di discografia altrimenti sarei già ricco posso posso dire tranquillamente che è molto molto bella cioè ti prende ti prende proprio quella musica cioè ripeto non è uno stile che tende poi a dar fastidio perché diciamo che è visto come un genere fastidioso no un genere che potrebbe potrebbe dar fastidio diciamo in base al genere che si piace come tutti guardate io ti dico una cosa davide distingo tra buona musica e cattiva musica a prescindere dal genere c'è il rock che dà fastidio ma c'è il blues che dà fastidio c'è se fatto bene secondo me anche sai la cosa più bella secondo me quando non ti piace un genere ma tu vedi un concerto di un genere che non ti piace ma quel concerto in particolare ti arriva e resti a vederlo e allora lì vuol dire che hai fatto un buon lavoro tu musicista esatto 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 cos'è la musica per te in particolare quella popolare cosa cosa ti dice guarda musica popolare io amo la musica popolare perché in quanto la musica popolare in generale perché ascolto tutta la world music da una collezione di 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 world music importante mi piace ad andare ad andare ad ascoltare band del mali come tin ariwen o annazrut e nusrat fateli khan a zamali che sono artisti poco conosciuti ai molti che non passano che non senti mai passare il radio però ti assicuro che hanno scritto dei capolavori delle della musica ai pezzi bellissimi stratosferici fantastici che arrivano al cuore all'anima è peccato che non siano conosciuti quindi parti da questo presupposto sono come come background musicale io sono molto legato a rock anni settanta però come tu sai essendo qui eh di lecce di anzi sono di morciano di lei originario sono nato lì ho vissuto fino a 18 anni lì e essendo di queste parti qua non a un certo punto sono stato influenzato da questa eh dal 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 genere caratteristico proprio della Puglia quindi la taranta no che è una roba che è stupenda ti dirò davide che se tu ci fai caso la taranta ha tanto in comune col blues c'è questi ritmi ossessivi ipnotici sono caratteristici del blues come così della 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 taranta no ripetitivi e mi 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 piace un sacco mi piace un sacco quindi ho ho tentato di unire queste due cose come ti dicevo prima unendo gli strumenti del della della che si utilizzati nella taranta con quelli che utilizzati nel 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 fare rock insomma eh un'altra cosa eh a che età hai cominciato a sentirti a tuo taggio con la musica ho iniziato guarda da da sempre da quando era quando da quando ero piccolo tu mi hai chiesto pure prima che cos'è per te la musica eh guarda devo essere sincero è tutto è tutto io sto benissimo quando faccio musica io sto benissimo quando sono su un palco sto benissimo in quel momento do il massimo di me stesso mi sento bene ecco durante l'arco della vita il momento in cui mi sento meglio in cui vivo bene e quando faccio musica beh è tutto mi alzo la mattina a pensare a quello che posso fare ascolto eh studio leggo di testi cerco di scriverne altri è tutto è è una costante è una costante l'unico l'unico momento in cui non ascolto musica è quando sono in bagno sotto la doccia no che uno di solito dice sotto la doccia che che cosa canti è l'unico momento in cui invece non non sento musica non ti viene l'ispirazione di cantare cosa cosa non ti viene l'ispirazione di cantare no no è l'unico il mio momento in cui mi rilasso insomma quando sono in bagno un'altra un'altra domanda sempre hai messo da parte la musica per un periodo per caso eh l'ho messa da parte ma non è stata una è stata una non una volontà ma una necessità eh sì è stato un brutto periodo nel 98 io ho avuto un brutto incidente per cui sono stato anni tutti gli ospedali d'italia prima di riprendermi e lì sono non potevo fare musica lo sai che questa domanda l'ho fatta perché forse che abbiamo un amico in comune che è Michele eh Michele Michele Frilli sì 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 però eh una persona si informa prima di fare l'intervista bravissimo perché prima prima di dire a che fare con un musicista anche se se lo descrivono me lo descrivono però io mi devo bravissimo armi su con chi tengo a che fare no durante l'intervista anche per sbagliare chiaramente tu sei un professionista sei un professionista grazie grazie del professionista mi fa piacere che ripeto quando una persona lo fa per passione ci mette l'impegno stati tranquillo che eh ci mette l'anima e io fare fare informazione fare informazione per passione quindi è tanto credi mi è sì sì ti riempi la giornata sì 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 e dove si può acquistare il tuo disco perché dischi li vuoi acquistare tanti no? Allora adesso adesso il disco il disco che adesso eh stiamo stiamo rilanciando è un disco che abbiamo pubblicato originariamente nel 2007 e si chiama ineluttabile questo disco qui avventuto di attenzione eh sì problemi di connessione ma sì 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 eh ineluttabile ha venduto diecimila copie e lo pubblicammo su supporto fisico per cui abbiamo pensato col disco grafico di rimasterizzarlo di aggiungere una nuova traccia di fare delle piccole delle piccole lo sai che io lo voglio no? Lo sai che io lo voglio? E certo che questo te lo ci vediamo ci vediamo e te lo e te lo e te lo regalo e quindi ripubblicarlo sulle piattaforme digitali in quanto all'epoca non c'era non c'era non uscì sul su 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 Spotify e tutta questa roba quindi Riccardo De Giorgi ineluttabile De Giorgi tutto unito ineluttabile lo puoi trovare ovunque su Spotify eccetera eccetera il singolo l'album uscirà a ad aprile intero uscirà ad aprile adesso è uscito il singolo un altro un altro i tuoi impegni i prossimi impegni diciamo che sto facendo una carrellata di di domande sia sulla vita attuale e poi facciamo tutto un miscuglio no? Però comunque sono sono belle certo certo sei 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 un leccese doc no? Quindi lui è un leccese che rapporto hai con la tua terra? Guarda io amo 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 tantissimo tanto la mia terra mi mi sia da un punto di vista ehm geografico paradossalmente perché è è un po' scomodo per noi musicisti o per gli artisti stare qui perché sei tagliato fuori da un punto di vista logistico no? c'è per arrivare dove gira la discografia dove gira devi spostarti devi fare un sacco di chilometri però è una terra piena di energia e sono molto legato alle tradizioni alle radici e non ti nascondo però che come 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 non mi sta avvenendo il termine ti lo dico in termini più semplici devo viaggiare mi piace stare qui aver migrato emigrato sì devo girare devo girare devo girare devo girare adesso sì 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 guarda l'anno scorso sono stato in questo periodo sono stato a Tirana o poi da Tirana sono sceso sono salito sulle montagne per poi scendere giù a Saranda ho fatto un giro dell'Albania perché lì anche c'è una musica una world music fantastica tutta la musica balcanica è da scoprire bellissima ho conosciuto tanti artisti del posto con i quali poi c'eravamo organizzati che io io volevo ritornare per fare delle cose lì poi c'è stato questo cavolo di di coronavirus e non sono riuscito a fare nulla per cui si ha frenato tanti progetti ma come come me e tante altre persone invece per quello che mi chiedevi prima i prossimi progetti io sto tornando proprio dallo studio di registrazione dove abbiamo registrato ineluttabile dove stiamo preparando i prossimi lavori che usciranno tra giugno e luglio e poi a settembre uscirà un EP al Soundland studio di Gabriele Ciullo io di solito gli ultimi lavori li ho registrati lì con Gabriele siamo oltre che collaboratori collaboriamo insieme da tanti anni siamo molto amici c'è una bella sintonia per cui uscirà nella prossima uscirà un nuovo inedito nella prossima compilation di lo posso dire forse non lo posso dire ormai l'ho detto di nuovo di tv con tv su risi e canzoni uscirà uscirà un nuovo pezzo che anticipa l'uscita dell'EP che uscirà poi a a settembre ottobre insomma ah ok quindi collabori con tv con su risi e canzoni questo questo è sempre sempre con l'etichetta Souljam Records tramite tramite loro no però volevo dire che è vero che quest'anno è stato un anno in cui siamo stato siamo stati fermi da un punto di vista di live però avedi abbiamo lavorato poi in studio abbiamo fatto tante cose ma questo era scontato che bisognava lavorare e un artista se un artista non lo è solamente sul palco ma lo è anche si deve cervellare dico io per realizzare se ami la musica quando uno ama la musica io poi ho fatto una foto poi te la farò vedere sì allora la foto è proprio quello ieri sera sono state dette tante tante domande tante situazioni anche lo di parliamo di lo di parliamo di tanti successi dove veramente hanno vissuto hanno hanno vissuto la vita in modo burrascoso sì quando la musica è vero che bisogna lavorare il doppio per raggiungere l'obiettivo perché come dire sei messo un attimino da parte no sì sì per poter arrivare però uno quando ama la musica sogna il futuro e questo questo secondo me è l'elemento centrale no di un artista è bellissimo questo che ha detto esatto sì bisogna sognare il futuro non bisogna fermarci cioè io parto da questo concetto perché un artista lo è lo è sempre e e credimi e credimi Riccardo la musica è vero è tutto per noi per me in questo momento ma anche perché perché comunque la ferie la musica guarisce le ferie dell'anima no a lieve dolori ma certo ma a livello a livello di proprio di mentalità chi ama la musica stati tranquillo che vede l'occhio lo vede cioè mette un occhio in più verso il futuro quindi sogna il futuro in maniera molto come dire solare e passerà esattamente esattamente ma guarda faccio sempre questo esempio della musica no quanto è importante la musica tu pensa un film a qualunque film quanto è importante la musica cioè allora nella vita reale dobbiamo cercarcela noi no dobbiamo aggiungerla noi e trovarci gli spazi per ascoltarla per però immagina in un film un film d'amore o d'azione se tu togli la musica è perso tutto la metà di quello che ti arriva dell'energia che ti arriva è persa ma anche di più della metà cioè la musica se ti dico una cosa Riccardo ti faccio ti dico una cosa proprio la settimana scorsa a me si è rotto lo stereo della macchina tutto un tratto non si sento più sono entrato in panico cioè non tanto se si rompe il cellulare da quanto si rompe lo stereo della macchina io entro in panico stai male stai male perché io stare in macchina specie in questo momento e non ascoltare la radio perché credimi quando uno sente la radio cioè tu che fai radio abbiamo fatto radio insieme quindi sai di cosa parliamo che cosa succede tu prendi spunto no quindi ascolti la radio e magari quella quello speaker radiofonico che sta dicendo quella cosa tu la memorizzi no e quindi stanno in macchina stanno da solo la radio parla la radio è quella che parla sempre diciamo non è come la televisione no dice dei giornali alla radio li fanno uno in mezz'ora invece in televisione lo fanno lo fanno quasi lo fanno tre volte al giorno no però ripeto io entro in panico se non ho lo stereo in macchina perché uno è di compagnia due sai no come fare per perché prendi spunto io che faccio io che conduco i programmi e non tanto il video quanto le parole che vengono dette perché ogni parola in radio tu sai no cosa stiamo parlando ha il suo significato certo quindi il senso delle parole dette in radio eh sono molto importanti hanno una valenza mediatica non dico il doppio ma quasi di quando ho detto in mezzo alla piazza concordo pienamente concordo pienamente ti 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 chiedo ti chiedo anche un'altra ti faccio un'altra domanda la musica la scarichi in internet la senti in macchina quindi come fai tu la cioè perché un artista di solito va girando questo dico ecco perché mi piace informare gli artista di solito riportano la borsa con i suoi diciamo no ti ti dico subito che sono uno negato che non ha mai utilizzato ti ricordi quando c'erano i mule tutta quella roba che si scaricava non ho mai scaricato non sono bravo a fare queste cose per cui io fino a qualche tempo fa ho continuato a comprare tutti i cd che mi interessavano e quindi ancora mi piace i miei cd sulle cose di adesso me le vado me le vado a cercare su youtube metto le cuffiette sento sento con cuffiette così ma non non ti dico la verità non sono uno che scarica o sono su spotify sono su spotify anzi credo di avere due profili mi diceva qualcuno due profili che che la aperti la casa discografica ma non ho neanche le la la le password per entrare mi poi sono loro che mi mandano tutti i resoconti le cose non ho le password quindi c'era un amico che mi diceva che tu stai la che tu puoi ascoltare tutto gratis puoi scaricare gratis non so come funziona ti dico la verità poi sei un po negato per la tecnologia diciamo sì parecchio sì sono all'antica per certe cose sono all'antica sono analogico sono analogico vedo così io c'ho un mix analogico non li cambio con niente ma ma assolutamente ma assolutamente un altro un'altra domanda quanto è difficile adesso in un primato del tenere il primato nel mercato della musica popolare oggi quanto è difficile di farlo ma io io penso che da un punto di vista proprio artistico in generale al di là della musica popolare sia proprio difficile esserci eh perché c'è tanta 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 tantissima roba tantissima roba eh tanti artisti tanti poi come si dice in italia è il paese di cantanti profeti ed eroi una roba del genere ma non mi sto ricordando però c'è tanta già già esserci è difficilissimo già esserci è difficilissimo devi fare i salti mortali non è semplice allora sai cosa dico io io vedo il futuro della musica lo vedo nel passato cioè live cioè ricominciare a fare i concerti la gente deve deve i ragazzi devono fare i concerti non devono stare solamente a registrare nella loro stanza e mandare il video su youtube come sono usciti tanti adesso sono usciti tanti artisti tipo bigliali c'è tanti altri no ed shiran bravissimi fantastici per le visualizzazioni eccetera però siccome ormai è satura la cosa perché tutti pensano che possono raggiungere livelli altissimi solamente facendo un video Laura Fasini Riccato scusami mi interrompo sì 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 ha avuto un miliardo di visualizzazioni cioè parliamo cioè Laura Fasini Laura Fasini che è arrivata al Kermes Sanremese che sembrava scusatemi una bambina una bambina era c'era una bambina hanno fatto vedere gli stessi alle immagini di quando lei cantava quando fece il primo sì 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 la solitudine da testa lei 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 aveva credo credo non fosse neanche maggiorenne forse era maggiorenne maggiorenne però era era il primo su esordio nella nella era era ingenua pura sì 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 ma adesso vedere a ottenere un miliardo di visualizzazioni e poi prendere il Global Trade AdWords cioè il Golden Globe AdWords non è uno scherzo cioè avere un miliardo di visualizzazioni è tanto cioè uno c'è si fa il nome Riccato De Giorgi ecco perché io ritorno al discorso che ho fatto all'inizio della tua presentazione Riccato De Giorgi non lo conosce nessuno o meglio fanno fitta di non conoscerlo fanno fitta di non conoscerlo perché bisogna tenere in considerazione che il nostro territorio la nostra penisola pugliese sì è ricca ma ricca 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 di 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 roba ma ci sono tanti ci sono tanti 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 artisti in gamba eh che che conosco che che mi emozionano che con i quali mi sento con i quali collaboro che non conosco personalmente ma che sono andato a vedere eppure non sono conosciuti al grande pubblico ce ne sono tantissimi veramente tanti 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 cioè non sempre il successo eh misura di 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 del del valore della della dell'artista eh perché poi bisogna stare nel posto giusto al momento giusto ci sono tanti fattori che determinano questo e ognuno poi prende la vita per quello che va avanti un altro cosa Riccardo perdoni un secondo ma tu il mercato musicale non ha detto ha tracciato prima un un passaggio dove dove mi dicevi in poche parole di cioè ci sono artisti nuovi no io dico una cosa no cioè parliamo un attimo delle nuove realtà io sono propenso no alle nuove realtà perché tu vedi salire sul palco gente che diciamo ancora è impacciata no ancora non sa come pare ad affrontare una platea no non è come Riccardo dei Giorgi che come tanti altri ma io ce l'ho in casa cioè il dio della musica popolare che Antonio Castigliano esatto e lui lui è un fascinatore di folle calcola allora ti apro una parentesi ci sono quelli che sono fuori classe che quelli ci appena bastano tre concerti da quando iniziano che Antonio Castigliano è uno che che appena sale sul palco sacco cioè e viene naturale c'è invece chi deve mettersi a studiare ci vuole più tempo a a capire come funziona lo scambio no che poi lo scambio pubblico eh artista è come un rapporto deve crescere piano piano eh ed è così però quello che volevo farti capire io sì sì scusa le nuove leve le nuove leve possono rovinare eh possono rovinare diciamo il mercato di un grande talento questo è perché comunque c'è il primato del mercato musicale della della musica popolare quindi uno deve mantenere no quindi difficile mantenere come sì ognuno guarda guarda come ognuno secondo me ognuno poi si crea una fetta di 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 pubblico una fetta di no credo che siano cose ehm separate ognuno si crea un filone che con gli anni poi c'è gente che con gli anni poi si stanca non ti viene a vedere più oppure tu hai cambi delle cose per cui ti ti continuano a venire a sentire no ma questo succede pure ai grandi artisti che ne so parliamo di artisti mondiali come Eric Clapton Robert Plant che sono artisti che io adoro voglio dire vado a vedere i loro concerti sono sempre concerti diversi eh nonostante ci siano tante band giovani che tirano un sacco di pubblico comunque poi la la ognuno c'ha la propria fetta di pubblico sai sai cosa non mi piace ma non me l'hai neanche chiesto ma lo voglio dire sai sai cosa ascolto tanta musica di ragazzi a parte la musica popolare ascolto tanta musica di ragazzi più giovani diciamo dei sedici diciotto venti questo genere trap no cosiddetto trap si chiama trap ci vedo ci vedo tante tanta negatività in questa roba qua che che negatività nell'accezione negativa del termine eh cioè non negatività in quanto come intesa come ribellione perché rock and roll era ribellione no e questi ragazzi ascoltano questa musica dove ci sono parolacce dove ci sono messaggi sbagliati messaggi sbagliati guarda io ti dico una cosa e questo non fa bene questo non fa bene nella musica e non fa bene alla cultura ma sappiamo ma sappiamo che è al costume il trap di new york il trap bravo di fondo del trap il trap metropolitano nasce in america dove ma bravo esatto e in quel in quel momento l'america era vista come la regione dei geniamo scusami come un continente come una nazione scusate come una nazione della il continente europa dove comunque c'era criminalità c'era molta ma ma diciamo Riccardo che è un genere che deve piacere io ho notato questo genere anche in questa che è messa ma lo posso capire io posso capire il genere in quegli ambiti là perché è genuino viene da esigenze viene da come è nato il rap come è nato il blues viene da viene dal malessere ed è una necessità uno deve esprimersi in quel in quel modo e ci sta però dai poi quando diventa una cosa come in italia eh che è un po ridicola insomma no perché ci stanno e ci stanno si ragazzi che sono figli di papà che poi in Italia riccardo sa qual è che lo prendono come idolo e quindi vanno a imitare e quindi sono dalla sua dal suo modo magari di esprimere quel suo genere sono diciamo come dire spericolati nel imitare quel tipo no tipo spera e basta tipo tanti altri personaggi ma io ti dico anche un'altra cosa quest'anno scusami che dico il feste di sanremo perché parlo con un musicista che di musica si si fende no feste di sanremo quest'anno mi sta piacendo anche lascia perdere che non c'è il pubblico quindi per un artista salire sul palco e tu lo sai meglio di me senza la gente che ti applaude diciamo è è un poco faticoso è un po' faticoso però ti dico anche un'altra cosa è un festival giovane dove comunque si sono viste situazioni innanzitutto parliamo solamente esclusivamente di musica italiana quindi è ritornato come i vecchi tempi quindi chi piace la musica sa che il festival di sanremo a livello discografico gettona quindi anche l'artista come stesso tempo anche le radio quindi e la cosa bella è che sono tutti ospiti fanno alcuni uno solo chi è straniero e adesso sono tutti italiani quindi andiamo a toccare le eccellenze italiane perché in questo momento l'italia ha le sue eccellenze e devono essere valorizzate in un certo modo e davide ti interrompo per dirti questa cosa concordo con te perché anche nei talent ho notato che c'è questa 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 volontà di anche artisti italiani ragazzi in gambissima che vogliono per forza cantare in inglese noi abbiamo un patrimonio fantastico italiano da un punto di vista di testi di cantautori e secondo me va valorizzato c'è la tradizione italiana deve continuare abbiamo artisti c'è de andrea e de gregori no che sono stati ma gaber e fossati ma lo stesso vasco rossi lo stesso vasco rossi zucchero artisti veramente cavolo che artisti e quindi andrebbero mi piace questa cosa dell'italiano mi piace tanto che che si canti come italiani io quello dico almeno nelle festival in italia nelle kermesse siamo italiani io questo dico basta basta nasce in italia il festival deve rimanere in italia capisco che ci può essere l'infiltrata ospitata diciamo di vabbè quello ci sta perché fa parte dello spettacolo ma dedicare interna situazione non mi vale lo scorso due anni fa solamente esclusivamente ospiti internazionali c'è l'italia facciamo stare facciamoci vedere chi siamo specie in questo momento e ti dico subito un'altra le faccio subito un'altra domanda la tua musica no si si raduna i fan di ogni età hai qualche segreto in particolare che hai qualche segreto in particolare che possa radunare un pochettino ma tu fai concerti raduni un po di gente no quindi cosa o qual è il segreto qual è il segreto che riccardo dei giorni sai il segreto il segreto è sentirsi ogni concerto sentirsi emozionato prima di farlo quindi trasmettere e tu trasmetti al pubblico il pubblico percepisce si crea un'energia quello di cui ti parlavo prima si crea uno scambio e quando si crea lo scambio e quello è il segreto il segreto essere sempre essere sempre curiosi essere sempre freschi lavorare sempre migliorarsi nei live migliorare il canto migliorare gli arrangiamenti cambiarli quello è fondamentale però il segreto credo che sia sempre appunto fare il lavoro con amore essere sempre emozionati prima di fare un concerto che sia un concerto in un locale davanti a 50 100 persone in una piazza davanti a mille duemila persone nel mio caso voglio dire perché più di tante non ne ho fatte due e tremila anzi noi ne abbiamo fatte abbiamo fatto il concerto al circo massimo lì erano tantissimi due anni fa facciamo l'ultima data del del tour che poi quell'anno vincemmo pure il premio del pubblico a macerata nella serata in cui cantavo io il premio del pubblico nella nella rassegna musicultura il teatro la filarmonica e quindi il segreto è emozionare essere emozionati altrimenti diventa veramente come timbrare cartellino perché la gente si accorge la gente si accorge quando tu sali sul palco e se in forma lascia perdere l'aspetto vocale proprio se hai energia da dare se ne accorge e lì la inizia a scaldare così e poi comincia a crescere la cosa se tu sei spento se sei andato così giusto per fare il compitino rimane tutto piatto ma parlato di nuovi talenti no parlato di talenti emergenti ha parlato anche di nuovi talenti quindi no è difficile affermarsi in Italia ogni settimana esce qualche videoclip con nuovi cantanti e dopo ognuno si sente cantante c'è questa voglia d'Italia che vuole emettere ci sta emettendo l'Italia in questo momento voglia di canto si alza una latina e canta e diventa cantante siamo arrivati praticamente al diciamo a cose come sai c'è un lavoro dietro lunghissimo c'è un lavoro lunghissimo quello che ti dicevo prima sicuramente tra queste persone ci saranno persone di gran talento che poi riescono anche a portare avanti dei progetti con dei grandi risultati per carità però fare questo lavoro richiede tanto studio tanto impegno e tanta 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 perseveranza e costanza e tanto amore amore e passione quella è la cosa principale che ogni artista secondo me deve iniziare a emettere perché ci deve avere la forza di volontà no quindi sì adesso ti faccio due tre domande faccio una domanda che poi è come un appello no che Riccardo perché siamo in fiera della nostra conversazione sono passati se dovesse cadere la linea il telefono si è scaricato no no abbiamo finito Riccardo mio una domanda principale e questo è molto importante per i nuovi talenti si parla in questo ultimo momento dell'avvento della quinta della tecnologia avvento di facebook avvento di tanti tanti network e voglio sapere come la vedi come avete i tuoi social e soprattutto l'appello che dai ragazzi per non fare queste challenge che sono che sono qualcosa di bruttissimo vedere vedere uccidere vedere impiccarsi la gente no perché vuole imitare qualcun altro ti dico la verità sono cose che ho letto ma che non conosco sono cose stai parlando di quella roba i challenge quelle cose che che cosa si pratica le challenge ci sono delle sfide che vengono lanciate su ttok sì si è visto a palermo cosa è successo no che quella ragazza si è impiccata perché voleva imitare quella persona e non so se sei al corrente di questa cosa sì avevo ho letto qualcosa ti dico la verità e ho anche due figli giovani però non sono cose che non che non concepisco che non che non sono mandato a guardare ti dico la verità perché non secondo me sono cose negative sono cose negative per cui mi tengo lontano da tutte queste cose moderne non vuole sembrare un vecchio però non ne non ne vedo l'utilità ecco vedo tanti ragazzi con questi telefoni in mano e mi dicono c'è tik tok tik tok questa roba qua ma l'utilità qual è io vedo vedo un cervello che viene risucchiato viene risucchiato internet va è una cosa stupenda è fantastica ma va usato per bene quindi si è usato per bene diventa una fonte di arricchimento altrimenti ti toglie tutto come anche facebook o instagram diventi dipendente ma certo ma certo perché la vita è un'altra cosa allora la vera è bravo ha detto bene la vita è qualcosa di meraviglioso è inutile spiegarla per invitare per andare a invitare qualcuno che magari in quel momento gli è sognato di fare quella cosa e poi il segreto non il segreto poi ognuno deve essere se stesso insomma ognuno deve essere se stesso essere cosciente delle provazioni che che uno fa esatto riccardo dai provvigioni e mano sul cuore mano sulla coscienza prima di fare qualcosa pensateci due volte esatto più di talento mettetelo perché io ti dico un'altra cosa e poi lascio io non guarda lo dico fino all'esasperazione questa cosa e magari scusate mi sono anche assidante le aspetti ai agli ascoltatori che mi stanno seguendo e ascoltando un giorno monsignor negro mi ha detto una cosa in una in una situazione mi ha detto davide ognuno di noi ha il proprio talento bisogna capire il talento che c'ha esatto tutti quanti possiamo e talenti magari non non ci siamo messi alla prova quindi non non ci hanno mai messo la prova e quindi non possiamo sapere che talento io ho magari io ho maturato nel tempo quindi ho avuto la formazione quindi lui oltre a cantare e a suonare riccardo magari saprà fare pure qualcosa altro e via discorrendo riccardo ti saluto ti ringrazio fortemente io ringrazio te saluto te saluto chi ci ha seguito anche questa fantastica ho parlato della stessa mia materia quindi ho parlato con un artista che mi capisce e lui capisce cosa sto dicendo ma non perché non voglio voglio darti no voglio scrivere anche gli altri che ho intervistato però quando si tiene a che fare con un musicista di fama e di successo si parla della stessa lingua quindi è troppo buona sei troppo buona e la verità io ti ringrazio e soprattutto rimani umile come sei perché sei qualcosa grazie e io ci aggiorniamo per la guidiamo l'intervista ti chiamo per telefono perfetto perfetto io saluto saluto te saluto tutti arrivederci ci vediamo in giro per per concerti live speriamo al più presto ciao a tutti ciao 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 il tamburietto mio vinnè da roma il tamburietto mio vinnè da roma cammela nottona cammela nottona cammela nottona napolitana 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 cammela nottona napolitana a me pizzica una tarantella me pizzica una tarantella ad una ritira una tarantella tra sotto lo giro, giro, tra sotto lo giro, giro, tra sotto lo giro , giro della Gonnella della perfetta della gonnella, della gonnella, sta sottando il giro, il giro della gonnella. Vidi Gippala, voi, Vidi Gippala, voi, Vidi Gippala, calaballa la balomba, calaballa la balomba, calaballa la balomba e lo gardillo, e lo gardillo, e lo gardillo, la bala la balomba e lo gardillo. La donna si è lontana, la donna si è lontana, la donna si è lontana e l'uomo cucchia La donna si è lontana e l'uomo cucchia Lo tamburietto mio vinne da Roma, lo tamburietto mio vinne da Roma La donna si è lontana, la donna si è lontana, la donna si è lontana e lontana Radio Ok in collaborazione con Magilla Spettacoli presenta Dimmi la tua interviste con i personaggi e gli artisti del momento ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30 in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok conduce Daddy DJ Ehi! 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 Ehi!